Buongiorno, buonasera, anzi scusatemi, siamo qui con Vincenzo Bruno, migliore in campo nella partita tra Blue Island Junior e FC Revolution. Tu fai parte della compagine di FC Revolution, terminata a 3, a 3 siete stati recuperati nel finale. Palle autore di un solo gol, ma non solo per questo migliore in campo. Allora, Bruno, perché? Perché? Perché perdiamo troppe palle indietro. Oh, Kivebby, scusate. Scusami. Perdiamo troppe palle indietro e non giochiamo palla a terra con la calma. Ho capito. La fine nessuno si fa vedere, la gioco firma. Ho capito. Senti, tu sei nuovo oppure sei venuto per le prime quattro giornate? No, questa è la prima partita. Quindi se non ricordavo male, sei al debutto, questi tuoi nuovi compagni, secondo te a che cosa possono puntare? No, possono puntare in alto perché le qualità ce l'hanno, solo che devono mettersi un po' con la testa a posto. Ho capito, va bene. Senti, mi vuoi dedicare il gol, il premio a qualcuno? Sì, hai 50 anni di Maradona. Ok, ringraziamo Bruno, arrivederci. Ciao. Ciao.